Ciao 10.000 Certo che sì Ancora? Ancora se lo farebbe Ovviamente saltiamo la parte Saltiamo la parte della Della barca stavolta 20.000 Wow 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 veramente wow E sicuramente C'è ancora Uuuuh Eccoci qui ragazzi Allora ho deciso di Registrare perché appunto Sono stanca e non so Quanto riuscirei a mandare avanti Una live E non voglio che succeda come ieri Che è durata un'oretta Scarsa Quindi vi volevo far vedere Che all'alto piano soleggiato Abbiamo molta roba da raccogliere Ho venduto tantissima roba Quindi Finiamo di raccogliere questo Ma la notizia della serata È che siamo a livello 10 Con tutti gli abitanti Più o meno E adesso vi farò vedere Con chi Ovviamente abbiamo dei problemi Chi è che ci crea dei problemi Poi 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 Altra cosa Altra cosissima Che dobbiamo Che vi devo dire E che ho combinato Cioè che sono riuscita a combinare Appunto è stata quella di Sistemare la radura del bosco La radura Della fiducia E la foresta Aspettate adesso Adesso me le faccio venire in mente Io le confondo Non so per qual motivo le confondo Direi che l'abbiamo finita La radura della fiducia L'ho sistemata come zio paperone voleva Più o meno E la foresta del valore Ho Diciamo abbellito Ma con dei cespugli Dei sassi Cose così Ci ho messo giusto il pozzo Su nella Che ho creato io Nel tavolo Nel tavolo Creativo Insomma come si chiama lui E nella foresta del valore Ci ho aggiunto anche il pozzo Che adesso vi farò vedere Ursula sta dormendo Ariel ditemi che non sta dormendo Vero? Per favore Sì però è in mezzo ai mari Allora Coloro che ci creano problemi Sono Problemi Nel senso che dobbiamo concluderli Sono zio paperone E Ariel Appunto Solo con loro due Non sono arrivata A livello dieci Di amicizia Probabilmente Anche perché Zio paperone Non sono più andata a parlare Con lui E non ho più sistemato Quelle due missioni Che dovevo Però con tutti gli altri Le missioni sono sbloccate Quindi abbiamo le ultime Importantissime Cioè ho perso mezz'ora Del mio tempo Per Completa Ripostruisci la valle In foresta del valore E sì La foresta del valore È un aspetto splendido Ben fatto De fantasia Come dico sempre Un investimento solido Porta sempre Solidi guadagni Perfetto E quindi ho perso mezz'ora Del mio tempo Per dirvi che Sono riuscita a sbloccare Tutte le missioni Più o meno con tutti Arrivando Al livello dieci Di amicizia La radura È in buone mani Le tue Non era così bella Da molto tempo Continua a darti da fare E dai al villaggio Il tuo tocco personale Niente Veramente niente Di particolare Lo vedrete Che non si noterà Nulla Di particolare Buongiorno a te Ho qualcosa da darti Adesso Ho i regali Per lui Oh E siamo arrivati Al livello dieci Anche con Paperon de paperoni Infatti ci mancava Poco Ero sicura Nuovo livello Livello dieci Perfetto E adesso La nuova missione Ho ricomposto La mappa Abbiamo tutto necessario Per trovare quel tesoro Inoltre Dove c'è un tesoro Spesso ce ne sono altri Ti darò una buona percentuale Dei profitti Se mi aiuti Sono pronta E così emozionante Temo che qualcosa Andrà storto Ora non posso Devo scappare Temo che qualcosa Andrà storto Perché appunto Abbiamo tutte quante Le missioni più difficili E sono sicura Che mi dimenticherò Le cose Beh Speriamo che non sia Troppo facile Cosa sarebbe Una caccia al tesoro Senza qualche difficoltà Dunque Anche se Ho ricostruito La mappa C'è una specie Di iscrizione Magica Che non ho potuto Decifrare Vai a trovare Merlino Lui saprà cosa fare Se non ci fosse Merlino Se non ci fosse Merlino Zio Quindi Adesso Mi metterò Un attimo tranquilla Quei regali Ricordi Quella cosa Che abbiamo trovato La pietra calcarea Se non l'avete vista Vi consiglio Di andare a riguardare Appunto In tutta la playlist Ci sono tutte quante Le varie missioni Ho pubblicato Anche le prime live E appunto Le sto inserendo Pian piano Pezzo per pezzo In mezzo Alle varie Ai vari punti Clou Delle varie puntate Ricordi Che quella cosa Che abbiamo trovato La pietra calcarea Credo che contenga qualcosa Posso sentirlo È come se Si irradiasse potere È come se Irradiasse potere Andiamo a controllare Ok Anche se Avrei fretta Ma tanto Una vale l'altra Ok Dobbiamo aprire Con cautela Questa pietra Senza rompere Ciò che contiene Mi sono avanzate Delle pietre Per incisione Dopo aver migliorato La tua piccozza Dovrebbero aiutare A rimuovere Lo strato esterno Della pietra calcarea Uh Bei pezzettoni Il cuore Della dreamlight valley Ok Poi che abbiamo Le sbloccherei tutte Questa sera Perché tanto Una vale l'altra Una vale l'altra E poi dopo Perché appunto Siamo ancora Con l'anello incantato Di Dobbiamo andare Da Ariel Dobbiamo assolutamente Subitissimo Andare Quindi abbiamo Sbloccato L'anello incantato Il cuore Della dreamlight valley La caccia al tesoro Parte 2 Progetto del villaggio Riparare la pietra Del sole L'ho sbloccato Senza volere Perché avevo appunto Dietro con me La signora Gotel Per finire di aumentare Il livello di amicizia E quindi si è poi Andato a sbloccare Perciò Ho un paio di pezzi Di cose che ci ha dato Ma La vedremo ovviamente Insieme La missione La nuova missione Disponibile con Elsa Con Ratatouille Con Ursula Con Vaiana E poi E' bloccata Quella con Ariel Ma adesso Andiamo subito A trovare Ariel Subito Ciao Ho qualcosa Da darti No Le abbiamo già dato Tutto quello che avevo Possibile Immaginabile Dovremo trovare Un diamante lucente Se no Devo aspettare domani E terminare Il diamante lucente Dov'è che si trova? Dov'è che si trova? Collezione Gemme Nelle terre dimenticate Proviamo a vedere Se troviamo qualcosa Nelle terre dimenticate Se no Di volata Magari La taglio anche Questa parte Nel caso appunto L'abbia Riesca a trovarlo Ma ci metta troppo Piccozza alla mano E si Però vediamo Se è un diamante Lucente O O brillante Come si chiama lui O se O se quella È solo No è solo un diamante Porca miseria Non so come ho fatto A venderli tutti Ah no Con Christoph Mi sa che Nella missione Con Christoph Li ho persi Altro diamante Sono proprio curiosa Di sapere Che cosa sia Quella Quella pietra Che c'è lì In mezzo A quella sorta Di cucina E tavolino Ok Vediamo un po' Cos'è questo qui Di diamanti Poi dovrebbe esserci Un'altra roccia Credo Qui forse Qui forse C'è un diamante Lucente Brillante Lucente Come si chiama lui Vediamo un po' Oh Non sopporto Tutte queste spine Qua ci sono Pochissime rocce Ce ne sono solo Da un lato E poi Mi piacerebbe Sapere Avete tolto Gli alberi O li avete Solo spostati Dalle terre Dimenticate Giusto per capire Se L'idea Che mi sono fatta Di toglierle Toglierne Alcuni È così Assurda Andiamo a vedere Nel nostro Inventario No Solamente Cinque diamanti Ariel Sei una disgraziata Posso dirtelo Posso dirtelo Allora Direi che possiamo Ripartire da questo punto Con la parte appunto Un po' più Diciamo Piena Pienozza Ecco Di contenuto Nel quale Cominceremo Dall'anello Incantato Di Anna Raccogliendo Raccogliendo I funghi Rossi Dal salice Gigante Nella radura Della fiducia Dobbiamo fare in modo Di ricostruire I missioni L'anello Incantato Merlino Dice Ad Anna Che potrebbe Eserci un modo Per restituire A Cristof I suoi ricordi Tramite la magia Con l'aiuto Di Merlino Viene Viene a conoscenza Di un incantesimo Che potrebbero Che potrebbe Restituire A Cristof I suoi ricordi Perciò Dobbiamo Fare Cercare di appunto Fare sta storia Per riuscire A ridare A Cristof I ricordi Dell'amore Per l'amore Di Anna Quindi Ovviamente Li ho visti I vari funghetti Rossi Di cui ha parlato Merlino Purtroppo Ero Off camera Quando appunto Eccoli Quando appunto Ce ne ha parlato Ma Ho aspettato Ovviamente Di essere assieme a voi A fare tutto quanto Uno Non mi ricordo A tutte le posizioni Due Poi stavo Stavo guardando oggi Mentre sistemavo Delle cose nel baule Che siamo Senza argilla E tutte le volte Che vengo qua giù Penso all'argilla Ecco qua il terzo E tre Ok Ok Incanta L'anello di fidanzamento Presso una postazione Creativa Magia E creatività Siccome mi mancava Un frammento Di cristallo Ovviamente E Sono dovuta Andare a cercarlo Adesso Costruiamo Il nostro Anello incantato Perfetto Poi abbiamo Questi oggetti Funzionali Abbiamo la pietra Calcarea pulita E possiamo Fare tutto Quindi stiamo Già andando avanti Con parte Delle due missioni Ok Porta l'anello Ad Anna 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 Sarà al ristorante Se non dorme Ovvio Ovvio Che si Non poteva Che essere Al ristorante Anna Elsa O dorme O è al ristorante No vabbè Elsa La vedo O giro Un po' Di più No ma è al ristorante Anche lei Ovviamente Parliamo E diamo via Questi oggetti Il mio anello Sembra Magico L'ho incantato Come me l'ha spiegato Come mi ha spiegato Merlino Grazie Bene Immagino sia il momento Di mostrarlo a Christophe Se questo non gli fa Tornare la memoria Niente ci riuscirà Ascolta Anna Mentre dà l'anello A Christophe Sperando che Christophe Sia sveglio Appunto Forza 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 Pediniamo Anna Pediniamo Anna E vediamo che dice Anna ciao Sono così felice Di vederti Vorrei solo Poter ricordare Più della nostra Sulla nostra Ecco Questo ti farà Tornare la memoria Una volta per tutte Un anello Sì Guardalo Me lo hai dato tu Perché ti ho dato un Oh Oh Christophe Stai bene? Sì Wow La magia è intensa Ricordi la nostra vita Insieme? Ricordo Mi Mi sta tornando Tutto alla mente Ci siamo Scusate la visuale Ci siamo incontrati In una bufera Eri congelata Poi non lo eri più Elsa Ha sentito Una voce Siamo andati Alla foresta incantata C'erano dei giganti Ti ho chiesto di sposarmi Tu hai accettato Esatto E farai meglio A non dimenticarlo più Ciao Parla con Anna Per sapere come sta Parla 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 Forza Non ho letto Comunque Ce l'hai scritto Ce l'hai fatta E bla 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 Grazie 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 Aspetta Ho un'altra domanda Di cosa si tratta Lo sai che sei davvero incredibile Certo che lo so Bene Hai aiutato Ci ho pensato Avete visto Hai aiutato in numeri modi Il villaggio Non chiamai Christophe Creerò nuovi ricordi con Christophe A presto Non so Sono preoccupata per Elsa Ultimamente è molto frustrata Cosa c'è che non va Dimmi tutto Immagino che le cose alla grotta Non vadano come vorrebbe Come vorrebbero E che non abbia ancora trovato Una soluzione Elsa diventa silenziosa Quando è arrabbiata E tende a cercare la solitudine Pensavo che potremmo fare qualcosa Per ricordarle che fuori Ci sono molte persone Che le vogliono bene Sembra che abbia solo bisogno di spazio Perché si chiude di nuovo In una fortezza di ghiaccio Non posso correre questo rischio Che ne dici di qualcosa Che ricordi a Elsa La vostra infanzia insieme? Oh sarebbe perfetto Ho un libro con i disegni Della nostra famiglia A casa mia Andiamo a prenderlo Facciamo un pupazzo di neve? Io infatti stavo appunto Pensando al pupazzo di neve Dovrebbe averlo a casa Abbiamo detto Tengo la pala in mano Nel caso ci sia bisogno Dov'è che abita Elsa? Eh sì Elsa Anna Uffa Mi perdo sempre Ecco Questo è il pozzo Che ho messo Questo qui è il nuovo pozzo Eccoci qui Andiamo a cercare Il libro dei ricordi Io non so se succede anche a voi Questo bug Ma si incastrano sempre Qua dentro E praticamente Non sono Tante volte non sono riuscita A parlarci Perché appunto Non me li faceva spostare Oh eccolo Non è difficile Trovare un libro qui Mostra ad Anna Ciò che hai trovato Allora vado avanti Con Elsa e Anna Anche perché Anche con loro Sono tra le più indietro Oh questi disegni Sono proprio Quel che ci serve E Elsa sarà felicissima Quando li vedrà Oh un'altra cosa Dovremmo prepararle Una torta Una torta di compleanno Al cioccolato È il suo compleanno No E allora per cosa Per questo Sarà una grande sorpresa Voglio farle sapere Che sono felice Che lei sia nata 365 giorni all'anno Che strana Logica mentale Vabbè Sei una sorella Fantastica Anna Grazie Faccio del mio meglio D'accordo Andrò a fare Una torta di compleanno Per Elsa Per mostrarle Che teniamo A lei Tutto l'anno Ottimo Ecco prendi questa ricetta Così potrai fare La sua preferita Per favore Dalle anche L'album di ritratti Io cercherò Altre idee Per continuare A celebrare Elsa Finchè ne avrà bisogno Wow Mica poco Procurati Questi oggetti Per Elsa La torta di compleanno E E L'album De ritratti Allora Per la torta di compleanno A rigore di logica Sì Usiamo questo Wow Ah beh Ci sono tutti gli ingredienti Grazie al cielo Ok Una volta terminato questo Vorrei andare Dalla signora Gotel Mi viene da allungare La O Non so per quale motivo Non so se ho tutto Quanto Avevo fatto Una sorta di scorta Di Ingredienti Di ratatouille Però Non so se mi è rimasto Tutto Anche perché Come vedete Mi piace cucinare Finché sono nei videogiochi Sono sempre brava Ho tutto Come potete vedere Anche con Remi Abbiamo la missione Da sbloccare Torta di compleanno Uh Anch'io voglio Una torta così Porta la torta di compleanno E l'album Dei ritratti A Elsa Ciao Ciao amica mia E Facciamo un pupazzo Di neve Diamole questi Poi noi abbiamo La missione Anche con lei Cos'è È un regalo Da parte mia E di Anna Una torta di compleanno Ma non è il mio compleanno Sì Ma Anna ha voluto Dartelo Lo stesso Perché Ti vuole bene 365 giorni l'anno È sempre un momento Giusto per una torta No Ti vuole bene 365 giorni l'anno Tipico di Anna Sono molto fortunata Ad averla come sorella Sì C'è un altro regalo Che voleva tu avessi Oh Cos'è questo Un album di ritratti Siamo Noi Sono dei disegni Della nostra famiglia Di quando eravamo piccole Io e Anna Facevamo dei pupazzi Di neve Poi Alf Il pittore di corte Ci disegnava accanto a loro Insieme ai nostri genitori È splendido Grazie di avermi ricordato La mia famiglia È uno dei miei periodi Preferiti Mi assicurerò Di ringraziare anche Anna Trova sempre il modo Di farmi sentire meglio Ok Grazie Ok Ora siamo a parla con Anna Wow E si accavallano Delle missioni di Elsa Come potete vedere Com'è andata? Benissimo Anna Si è commossa Oh Sono così contenta Che abbia funzionato Ha detto che I momenti in cui Avete fatto dei pupazzi Di neve insieme Sono stati tra i suoi preferiti Mi è sembrato Che le mancassero Ehi Questo Mi dà un'idea Facciamo un pupazzo Di neve per Elsa Ne ha sempre fatti Per farmi sorridere Credo sia il momento Di restituirle il favore Adoro fare i pupazzi Di neve Sai A volte penso A te come membro Onorario Della famiglia Reale Di Arendelle Wow Ci somigliamo molto Aspetta Ho un'altra idea Ne faremo un Non faremo Un pupazzo di neve Faremo Una famiglia di neve Un pupazzo per me Uno per Elsa E uno E due Per nostra madre E nostro padre Ci serviranno Dei ciottoli Per gli occhi E le bocche Del legno secco Per le braccia Poi della stoffa Per fare i capelli E sciarpe Non vogliamo Che prendano freddo No Sono pupazzi di neve Alla fine Infine Per i nasi Delle carote Un classico Ho l'impressione Di dimenticare qualcosa Ah La neve Esatto Vedi Sai quello che fai Ok Quindi Abbiamo qui Il pupazzo di neve Siccome Come potete ben vedere Richiede Al di là Dei ciottoli Non è detto Che tutto quanto Non sia a casa Perché ovviamente Ho conservato Più o meno 99 pezzi Di ogni Ogni tipo di cosa Tra dell'argilla Per colpa tua Minnie Ma Voglio trovare Ariel Ah no Ariel no Andiamo Dalla signora Gotel Che voglio Sistemare Sta storia Della pietra del sole Che mi fa paura Ho paura Che sia lunga Acqua dell'oceano Origano Menta Ok L'acqua dell'oceano Ovviamente l'ho vista Ma non ho raccolto nulla Limone E menta Già ce li avevo Controlla Acqua dell'oceano E origano E questo qui L'origano Sì Usa una postazione Di cucina Per ripristinare Il frammento Dell'alba Cucina Ed eccoci A casetta Ah Frammento Dell'alba Scintillante Frammento Dell'alba Scintillante Wow Uh Guardate qui Vai 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 Raccogli Non so Non so se avevate Già visto Appunto Che ho Allargato Allargato Insomma Ho fatto L'upgrade Di tutti Gli inventari Ah dobbiamo Dobbiamo andare Oh ciao Ben fatto Ben fatto Un'altra parte più scura della dreamlight valley le terre dimenticate seppelliscilo e annaffialo per tutto il tempo necessario e poi andiamo alle nostre terre dimenticate appunto assist diamogli questo che è la mappa magica si si lascia vedere si ho già visto iscrizioni simili la formula magica giusta dovrebbe rivelare cosa c'è scritto ah vedi l'iscrizione dice solo chi detiene le lenti delle ombre troverà ciò che è nascosto nel qui e là se il tesoro vuoi ottenere trova le chiavi e rendi le intere le chiavi le lenti delle ombre ah sì paperone teneva qualcosa di simile in una cassaforte prima che giungesse l'oblio dovresti parlargli le chiavi esattamente sembra che tu debba trovare due pezzi di una chiave a ripararla un altro enigma non preoccuparti la magia è piena di misteri di enigmi da risolvere ora recupera la mappa e concentra la tua magia su di essa ti rivelerà la sua vera forma e questa era la missione di paperonte paperoni vi chiedo scusa ma siccome appunto come vedete hanno tutti quanti delle missioni adesso potrei perdermici un attimo come ho detto chiedi a paperone delle lenti delle ombre potrebbe ricordare qualcosa e ripara la chiave ti servirà grazie andiamo su nelle terre dimenticate ah vediamo piuttosto essendo qui su nelle terre dimenticate adesso allora intanto dobbiamo andare a seppellirlo e io direi che lo lo seppelliamo qui di fianco al cartello me lo scriverò che l'ho seppellito qui di fianco al cartello pianta seme perfetto e abbiamo la bancarella di pippo e il cartello così tutte le volte mi dà controllo alto piano soleggiato da questa parte porta il frammento dell'aloe brillante alla signora gottella abbiamo l'altro su noi si volevo solo vedere un attimo se trovavo il diamante è comunque veramente uno slalom lì in mezzo cioè in questo in queste terre dimenticate è veramente uno slalom tra alberi rocce sti fuochi qua eccetera e vediamo un po' se uno di questi può essere il diamante lì lucente come si chiama lui oh ne abbiamo trovato uno perfetto possiamo anche tornare da Ariel con mi sono presa il cellulare in mano quell'altro frammento che ci richiede dovremmo muoverlo qui in casa adesso togliamo la pala di mano magari dovrei averlo messo qui in casa per non fare caos ah no è questo qui mi sto perdendo ve l'ho detto che con la signora gottella avevo paura di perdermi ciao ma che piacere ancora tu ti sto solo punzecchiando cara sono felice di vederti portami il frammento del tramonto appena sarà stato ripristinato sì vabbè ma hai detto che ci mette ah ma porta il frammento dell'alba brillante alla signora gottella e dove ce l'ho io il frammento dell'alba brillante io ho un problema non so non so più dove ho messo il frammento dell'alba non lo trovo più o non mi ricordo se glielo ho dato perché nel frammento dell'alba dice usa la postazione di cucina per ripristinare il frammento dell'alba assicurati di avere il frammento dell'alba nel tuo inventario porta il frammento dell'alba alla signora gottella a meno che a meno che non si debba semplicemente aspettare che quel frammento dell'alba frammento di mattone frammento di quel che non si sia ripristinato tutto qui perché perché non so cosa è diventato da frammento dell'alba frammento del salmone e frammento vediamo se ci scaviamo sopra no non mi da minimo modo quindi secondo me dobbiamo fermarci qui con la signora gottelle perciò andiamo solo un attimo allora concentra la tua magia sulla mappa nel tuo inventario ok quindi torniamo un secondo a casa concludiamo con paperone e andiamo da aria a portarle sperando che non dorma sperando che non sia in pieno oceano chissà dove a portarle la sua gemma apri cos'è ricordo mappa del tesoro usa wow vi rendete conto che non siamo ancora riusciti ad avere eric non abbiamo ancora eric qui con noi cavoli non ci ho pensato io dopo devo arrivare ad amicizia 10 con eric chiedi a paperone paperone le lenti delle ombre su 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 sbrigo questa e poi vi saluto avanti no 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 non voglio il cappello allora hai trovato qualcosa dice lenti delle ombre deve trattarsi degli occhiali speciali che ho conservato quando è giunto l'oblio erano chiusi nella cassaforte che tu hai aiutato ad aprire dunque solo chi è in grado di usare la forza della dreamlight può utilizzarli e tu sei l'unica qui che può farlo prendili sono tuoi grazie la mappa so che puoi leggere la mappa dobbiamo trovare il tesoro ricorda la x indica il punto in cui si trova e ora vai a trovare quel tesoro solo tu puoi riuscirci ricordati di indossare gli occhiali magici e solo il modo perché ti si rivedi wow 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 allora vediamo un attimo solo di fare queste ultimissimissimissime due cose e poi spero di riuscire a tagliare svariata parte perché è un'ora buona che registro e ratatouille andiamo da ratatouille remi 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 sei a casa remi bonjour bonsoir dimmi bonsoir salve come va ok ho un'idea ho un ricordo probabilmente ci sono ricordi dispersi per tutta questa valle comunque ricordo qualcosa di un piatto che ho preparato una volta parla solo di piatti ma perché non si trova anche una dolce topolina non con la vocina di minni era freddo dolce un dessert mi piace moltissimo la sua voce ad esempio aveva qualcosa di magico quando si parla di magia merlino potrebbe saperne qualcosa potrei andare a chiederglielo ascoltarti mi ha fatto venire fame vado a prendere qualcosa da mangiare quando si parla di magia merlino potrebbe aiutare sarebbe fantastico se gli viene in mente qualcosa fammelo sapere ok quindi abbiamo sbloccato questa missione un nuovo sapore remi è perso nei suoi pensieri forse dovresti scoprire cosa succede sta cercando di ricreare la ricetta di un dessert magico decidi di andare a chiedere aiuto a merlino mostra il frammento che hai trovato a maui oh mi viene voglia di andare avanti rega uff no voglio solo trovare ariel voglio solo trovare ariel cara 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 ariel dove sei darti un diamante di questi qua se non sali di tanto 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 ti strozzo oh grazie è una meraviglia uffa arrivederci e niente va bene così quindi 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 nel frattempo per questa puntata spero che vi siate divertiti spero che la live vi sia piaciuta la live scusate spero che la puntata vi sia piaciuta che il gioco piaccia quanto piace a me e spero di invogliarvi appunto a provarlo insomma così e niente grazie ancora per avermi fatto compagnia mi raccomando se siete nuovi come sempre siccome vedo che appunto tanti guardano ma non sono iscritti al canale iscrivetevi al canale attivate la campanella per ricevere le notifiche sull'uscita dei prossimi contenuti tanto non vi costa nulla grazie ancora per essere stati con me ci vediamo nella prossima puntata buona serata a tutti ciao 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 ragazzi ragazzi mi sono scordata di fare una cosa importantissima upgradeare il giardino di Wally Santi Numi perfetto e andare anche a fare quello ci sono altri upgrade sì sì vediamo un attimo quanto chiede 10.000 certo che sì ancora ancora se lo farebbe ovviamente saltiamo la parte saltiamo la parte della della barca stavolta 20.000 wow 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 veramente wow e sicuramente c'è ancora alla prossima giusto così per curiosità poi vi saluto vi saluto vi saluto 30.000 dalla prossima facciamo la pazzia cercherò di avere guadagnato ancora appunto tanti soldi io vi ringrazio ancora per essere stati con me grazie della compagnia se siete nuovi come sempre iscrivetevi attivate la campanella per ricevere le notifiche sull'uscita dei prossimi contenuti e noi ci vediamo veramente alla prossima puntata ciao ciao a tutti